prova a te questo è un marzovolo no buono qui hanno tagliato le chiome agli olivi che sono attaccati alle querce queste querce lo hanno fatto anche a molti perché qui praticamente era tutto un territorio tartufiggio e ce n'erano di tartufi qui però tagliandogli le chiome hanno fatto penetrare il sole adesso io non li sto a trovare qua? mi ha fatto qualche bollettino non è il mio immittatore di bollettino allora allora Dove amore